E oramai quasi tutto pronto per il 35esimo Valtellina Orobie ISMF Coppa del Mondo di Scialpinismo 2021-2022. Tra sole 48 ore, mercoledì 2 febbraio, la cerimonia inaugurale da piazza Garibaldi a Sondrio, dove è addirittura d'arrivo l'allestimento del villaggio dello Ski Alp. Due le gare assegnate alla polisportiva al Bosaggia, che fa gli onori di casa, dinnanzi ad una platea mondiale. Prova individuale e prova sprint, senior e under 20, maschili e femminili, entrambe dalla Val Malenco rispettivamente in programma giovedì 3 dalle nevi del Palù e sabato 5 febbraio da Caspoggio. Noi l'ultima edizione di Coppa del Mondo l'abbiamo realizzata nel 2016 e devo dire che il target si è alzato tantissimo anche a livello organizzativo, come giustamente deve essere se vogliamo proporci e trovarci preparati per un campionato olimpico che si terranno a Bormio, quindi anche lo Ski Alp ha dovuto fare il suo balzo in avanti e proporsi in un modo più professionale. E questo ha comportato anche da parte della polisportiva al Bosaggia alzare tutto il target organizzativo e di un livello molto molto elevato rispetto a prima. Al momento 130 gli atleti in Lizza, provenienti da circa 15 nazioni. Li vedremo sfidarsi su un tracciato di gara che si articolerà lungo le piste della Val Malenco, creando così una gara dai connotati più olimpici, una sorta di anteprima di quello che sarà l'appuntamento che attende i nostri campioni tra soli quattro anni. Ma tu te lo saresti mai immaginato qualche anno fa che al Bosaggia e comunque la nostra Valtellina potesse diventare così importante per questa specialità sportiva? Beh, diciamo noi è una vita che crediamo e se siamo qui è perché ci abbiamo sempre creduto, ci mettiamo sia risorse economiche che anche risorse fisiche. Ricordo che dietro a un evento del genere ruotano una marea di volontari e senza di loro non si potrebbe fare nulla. Però tutto questo ci paga e i risultati si vedono. Appuntamento dunque a mercoledì per la cerimonia di apertura in piazza Garibaldi, Sondrio alle 17.30. La diretta dell'inaugurazione sarà visibile sul canale 85 di TSN su tutta la regione Lombardia. Giovedì sull'Alpe Palù, inoltre se gli spettatori vorranno assistere alla manifestazione potranno farlo in assoluta sicurezza. Il campo gara è blindato, però lì in zona arrivo potranno assistere a cinque passaggi estremamente spettacolari e potranno godersi di un vero sci alpinismo. Per quanto riguarda la sprint, sabato mattina a Caspoggio sempre alle ore 9.